Lo sfruttate, lo sfruttate, sulle braccia, sul décolleté, crea quell'effetto radioso, ma che meraviglia anche il décolleté, un effetto radioso sofisticato che vi trasformerà la pelle del corpo in un'azione incredibilmente illumina, bello, bellissimo Silvia, immaginatevelo sulla pelle abbronzata, crea un effetto giovinezza incredibile. Provalo anche su un braccio sì o un braccio no Silvia. Allora io ho esagerato perché mi piaceva proprio l'offensione. Fai proprio un braccio sì o un braccio no, esattamente, che vedete proprio la differenza, lo applicate così, lo massaggiate se volete, voilà, guardate la differenza tra un braccio senza il platinum VIP e il braccio con pelle ricolpata. Dove è spruzzato, si vede proprio lo stacco. Bellissimo, idratata, luminosa. Lo potete applicare anche sui capelli umidi per ristrutturarli, per dargli quella lucentezza in asciugatura, magari nel periodo estivo in cui non usate il phon. Ed è, vi arriva anche, scusatemi, non solo lo spray platino, ma anche questo, scusami regia se si può. Sei esagerato eh. Lo spray illuminante, guardate.